ok ragazzi stiamo provando l'active track e devo dire che funziona benissimo non ci perde mai ok ragazzi ho attivato l'active track sembra che funziona benissimo ci segue siamo a 13 all'ora con la bicicletta ci sta seguendo benissimo proviamo a accelerare un po' siamo a 16 all'ora ci segue ancora aumentiamo siamo a 20 all'ora e ci segue ancora non c'è ancora perso ci sta seguendo benissimo secondo me questo active track funziona veramente veramente bene comunque veramente veramente tanta roba guardate come ci segue adesso poi ci sono i tavolini secondo me è anche ora di mangiare aspettacolo guarda 20 all'ora ci ha conseguito di brutto e devo dire che funziona benissimo non ci perde mai come per adesso non ci ha mai perso anche se adesso l'ho messo a un'altezza di 20 metri ci sta seguendo perché c'erano un po di piante quindi non mi fidavo tutto devo dire che ci sta seguendo benissimo ok ragazzi guardate questo volo l'hoteligo è finito entro nel secondo tratto benissimo soprattutto l'active track è stato eccezionale se anche questo video con l'hoteligo vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video o voli o quello che è ciao 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 ciao